Scrittura dell'estremo e narrativa del nuovo millennio. Devo però dire subito, onore del vero, che parlando con Daniele di queste e altre cose, lui un giorno mi disse una cosa che mi è rimasta un po' impressa, e spero che questo libro sia superato il più rapidamente possibile. Le tesi che ho sostenuto, la situazione che descrivo lì, spero che siano già superate oggi stesso, che l'ho dato alle stampe. Quindi, onore del vero, può darsi che qualcosa stia anche succedendo. Comunque, io ho il compito di riassumere, per chi non abbia letto il libro, quello che Daniele sostiene. La prima cosa che voglio dire, quindi sarò per forza di cosa un po' più lunga, degli altri interventi che invece vorrebbero essere proprio un po' di botta e risposta. Dunque, è un libro che fa un po' un passo di lettere, rispetto a molte delle questioni che oggi è al centro della critica letteraria. A volte fa un passo di lato, cioè opera in qualche modo uno spostamento, almeno questa è l'impressione che ho avuto io quando l'ho letto, e cercherò di evidenziare come e dove avviene questo spostamento. Questa è l'unica aggiunta che faccio a un riassunto, che spero sia il più preciso possibile. Il libro parla di letteratura, ma naturalmente non parla, anzi, non parla solo di letteratura. Posso dire che l'ambito che tocca il libro è, in fondo, un ambito che io definirei, cioè al suo fondo sta una domanda, diciamo così, antropologica. Una domanda non nuova, già esplorata, ma appunto indagata qui con uno sguardo molto particolare. La domanda è che relazione nella società dei consumi, fortemente mediatizzata in cui viviamo, che relazione intrattiene l'uomo con la realtà? Mi pare questa la domanda alla fine. La letteratura cos'è in questa cornice? È un sintomo, un sintomo dal quale misuriamo questo rapporto dell'uomo con il reale, cioè la difficoltà di questo rapporto. È un'impostazione che non cerca né di stabilire classifiche tra gli scrittori, né di dare conto di un maggiore o minore valore letterario, ma, già questo sarebbe di per sé interessante, ma ancora più interessante è il fatto che il libro scarta completamente rispetto al vasto dibattito sul cosiddetto nuovo realismo. Cioè non lo tocca mai tematizzando direttamente questo dibattito, anche se è evidentissimo che Daniele lo ha ben in mente. E questo, secondo me, è un punto a favore appunto del libro di Daniele, perché questo scarto consente di vedere altre cose, anche perché quel dibattito a me non è sempre parso, insomma è ineguale nella sua levatura, diciamo così. Diciamo che Daniele parte senza neanche esaminare questo dibattito sul realismo da un punto di vista che però incornicia questo dibattito entro altre coordinate. Questa nonchalance è una caratteristica della scrittura saggistica di Daniele. Molto spesso, questo lo dico così perché è una notazione quasi di forma del libro e dell'argomentazione, molto spesso dietro queste pagine ci stanno intere bibliografie, per esempio sulla vittima, per esempio sul reale, per esempio sulla canna. Però queste bibliografie non vengono praticamente mai esibite e neanche tanto discusse, perché si tenta di superare una certa autoreferenzialità propria della critica accademica. Voglio dire che questo libro espone in maniera molto chiara una tesi molto forte e vediamo, e Daniele è uno dei pochi che oggi fa questo tipo di critica saggistica. Ha un tono, devo dire, fortemente assertivo, credo che a tutti si possa riconoscere in questa definizione, che per questo si è prestato anche, ho visto in rete, così a qualche uso un po' improprio, nel senso che è facile estrapolare un'affermazione e non tenere conto della complessità del discorso in cui è pronunciata. Quindi di questa complessità io mi faccio un minimo carico di darvi conto, sperando di farlo. Allora, iniziamo. L'epoca attuale è l'epoca del trauma, dell'assenza di trauma. Questa è la tesi prima, enunciata dal libro. Cosa significa? In due parole significa che noi parliamo continuamente di trauma, che il trauma ricorre ossessivamente nel linguaggio quotidiano, ma ne parliamo in una forma indebita. Perché? Perché, in primo luogo, chiediamo che si parla sostanzialmente di traumi collettivi, perché questo è uno degli usi impropri che si possono fare del libro di Daniele dicendo però che i traumi esistono, è ovvio. Qui parliamo di traumi collettivi e su questo forse poi potremo spostare la discussione. Comunque parliamo di traumi collettivi. Quindi guerre, epidemie, carestie, traumi collettivi, che non hanno luogo da tempo nelle opulente società dei consumi. Società che sono tutte fondate su parole d'ordine come la cura, la tutela, il diritto alla felicità. Dunque il trauma non è più ciò di cui non si può parlare. Non è più propriamente quello che dovrebbe essere appunto il trauma e cioè quello che non può accedere al linguaggio. Al contrario, il trauma oggi serve a certificare l'autenticità dell'esperienza. Funziona per attribuire senso a un'esperienza che evidentemente è impoverita. E qui torniamo a Benjamin, è una lunga letteratura sulla crisi dell'esperienza. Cito, non vivendo traumi li immaginiamo ovunque. Inseguiamo in qualche modo, ansiosamente, dentro la sfera del linguaggio, il trauma. Però in tal modo non viviamo traumi, ma traumi riflessi, filtrati quindi, distanziati da un rapporto di rappresentazione filmica, televisiva, letteraria. Da queste premesse, che sono discutibili naturalmente, verranno poi discusse, Daniele parte per introdurre il secondo punto. La letteratura dell'epoca del trauma e dell'assenza di trauma è una letteratura dell'estremo. Cito. Rappresentiamo il non traumatico sotto le spoglie del trauma. L'eccezione è la regola. Senza il linguaggio del trauma, che a rigore dovrebbe essere un buco, un difetto, un fallimento del linguaggio, non abbiamo più niente da dire su ciò che ci circonda. E ancora, solo attraverso lo splendore straniato di un'assenza, il trauma che non subiamo, le vittime che non siamo, sembra offrirsi la possibilità di conferire senso e forma alla nostra esperienza impoverita. Ecco allora che scrittori tra loro completamente diversi, insomma fortemente diversificati, come, adesso cito un po' a memoria, Affinati, Ammanniti, Balestra, Moresco, Scarpa, Vwing, Santa Croce, Pincio, Nove, Decataldo, Siti, Siti di cui parli molto, Saviano, Carlotto, insomma, hanno però qualcosa in comune, ovvero una scrittura che tiene il luogo del trauma, tiene il luogo nel senso che è luogo tenente appunto, una scrittura che genera senza sosta un supplemento di discorso immaginario, ideologia. La tensione a questa scrittura dell'estremo nasce evidentemente da quella difficoltà di rapporto dell'uomo col mondo e della letteratura col mondo, da quella condizione di inesperienza di cui ha parlato appunto Scurati, nella quale in qualche modo la realtà ci sfugge. E qui veniamo al punto più denso e forse difficile, la distinzione tra realtà e reale, reale con la maiuscola, termine utilizzato da Lacan. Proviamo a sciogliere questo nodo che è il più complesso dal punto di vista teorico. Crisi dell'esperienza, inautenticità, disincanto, reificazione, alienazione, simulacro, spettacolo e via discorrendo. In un mondo strutturato da questo lessico la realtà coincide con la sua rappresentazione. E queste cose le abbiamo sentite dire. Dove troviamo però allora un punto di fuga per trascendere questa realtà? Nel reale, nel reale lacaniano. Il reale lacaniano che di nuovo è ciò su cui il linguaggio non ha dominio. È una fessurazione nell'ordine del simbolico. Cioè è ciò che non è simbolizzabile, è evento e non senso. È qualcosa quindi di vicino in qualche modo al trauma. Solo che nell'universo letterario contemporaneo diviene trauma fantasmatico. Di nuovo diviene trauma immaginato. E in questo capitolo ci sorregge, se abbiamo fatto qualche lettura, di Recalcati, quello che ne ha scritto Recalcati e speravone parlasseremo a Cesarani che purtroppo non sappiamo perché non è riuscito a raggiungerci stasera, è disperso. Siccome ha scritto una cosa su Belfagore in cui discute del libro anche di Daniele parlando anche delle tesi di Recalcati, comunque ci torneremo noi. Allora è questo il terreno su cui nasce la letteratura dell'estremo. Realismo psicotico, la definizione di Perniola. Una letteratura che tenta, e questa è una definizione che mi sembra ficcante, almeno per alcuni dei testi che prende in esame, Daniele tenta di rimotivare a posteriori i segni vuoti in cui ci rispecchiamo. Cioè una rimotivazione a posteriori, un tentativo di attribuzione di senso all'interno di un'esperienza inautentica, per usare un termine forte, e che viene dalla filosofia heideggeriana in questo contesto. Dunque ricorre a violenza, sangue e morte, ma soprattutto a complotto, tradimento, segreto, paranoia. Ora si potrebbe dire che alcune di queste caratteristiche sono tipiche del postmoderno, del postmodernismo, eccetera, eccetera, magari ci torniamo. Io devo incalzare il ragionamento di Daniele. Perché occorre esibire l'estremo e lo sceno? Sembra, ripeto, l'unica via per prendere parola. Sembra che gli scrittori abbiano questa unica via per prendere parola, cito, quando ci si sia resi conto di non avere altro materiale da costruzione fuori della sterminata distesa di immagini e cliché che fungono da ossatura morfologica al modo in cui si forma la rappresentazione dell'esperienza. Dunque quando non si ha altro materiale da costruzione che questo, allora l'unica via, per prendere la parola, sembra essere quella di collocarsi in qualche modo tra la realtà inappropriabile e il reale innominabile. dare una forma a una impotenza. In fondo si tratta di un'epoca di impotenza, una scrittura caratterizzata dall'impotenza, da una paralisi, da cui questa scrittura tenta di uscire producendo sostanzialmente due filoni che sono quelli che Daniele poi analizza e sui quali magari un po' meglio ci fermiamo dopo, adesso non entro tanto nello specifico della lettura dei testi di Daniele perché se no non finisco più, sono il genere e l'autofinzione. Per genere qui si intende soprattutto giallo, noir e derivati, spesso a sfondo storico, e autofinzione, due forme tipiche della contemporaneità, due forme, dice Daniele, che nascono gemelle, un parto gemellare. Perché? Perché sono sintomi della stessa condizione. L'assunto da cui muovono, sto citando, è il medesimo, la difficile rappresentabilità dell'esperienza. Ecco allora, e qui procedo rapidamente, che nel genere troviamo personaggi piatti, narratori onniscienti, teoria del complotto, riletture della storia alla luce dello svelamento di poteri sempre occulti, soluzioni di misteri, forme di chiusura, in ogni caso la fiction pretende di svelare la verità. Lucarelli, De Cataldo, De Michele sono i rappresentanti primi, direi, di questo, poi ce ne sono altri, ma insomma, qui l'analisi si fa abbastanza ficcante. In effetti l'altro giorno vedevo una trasmissione di Lucarelli e ripensavo alle parole di Daniele e l'argomentazione è quella. Poi, magari sulle motivazioni si può non essere d'accordo, ma la struttura dell'argomentazione è proprio quella. Molti di questi tratti non sono piaciuti alla critica, ma qui, appunto, non è questione di valore, non è questione di letterarietà, è questione di capire di che cosa sono sintomo queste forme narrative. Stessa tensione all'interpretazione del sintomo Daniele la mette in evidenza nel capitolo sull'autofinzione che nasce da un cortocircuito che è quello tra pretesa di autenticità, pretesa di realtà e finzione. Cioè, il protagonista ha lo stesso nome dell'autore e questa è un'istanza di realtà introdotta nel testo, però il testo rivendica il diritto all'immaginazione, alla finzione, mettendo in crisi quella stessa istanza di realtà su cui pareva fondarsi, in un cortocircuito che produce un'esibizione del sé che non avevamo mai visto prima, perché il patoto biografico prevedeva altre cose, poi anche la critica freudiana ha la possibilità e anche quella... Insomma, Dubrovski da questo punto di vista qui fa un passo oltre. Qui funziona, mi pare bene, l'analisi del vittimismo di Moresco, ma funziona abbastanza bene anche quella di Siti e in particolare di Troppi Paradisi, che è interessante perché adombra criticamente la possibilità di una resa della letteratura a un mutamento antropologico profondo. Cito, fine del desiderio, della sua etica e delle sue battaglie, trionfo del godimento, del consumo a somma zero, della bulimia dei corpi e dell'anoressia dei progetti. Un giudizio piuttosto... Troppi Paradisi, in effetti, finisce così, non è che ci siano dubbi su questo, però, siccome Siti è un autore molto amato da Daniele, mi sono un po' stupita della crudeltà ermeneutica esercitata anche su Siti. No, nel senso che mi aspettavo che Siti lo salvassi un po' di più. E invece, no, dicevo appunto, l'analisi, l'interpretazione della letteratura come sintomo funziona anche negli autori che sono più amati, che è un segno a favore. Non entro, ripeto, nel merito dell'analisi di queste forme, proseguo. Allora, cosa ci dicono queste forme se noi le interroghiamo alla luce di una istanza alta, che è quella che pretende di mettere in campo il libro di Daniele, cioè la verità storica. Cosa ci dicono queste forme alla luce di un'interrogazione che ne ricerchi, la verità storica. Ci dicono qualcosa su ciò di cui sono sintomi, appunto, ovvero di una situazione nella quale, e qui arrivo al nucleo forte dell'argomentazione, quello che a me forse interessa di più di questo libro, nella quale il soggetto è messo sotto scacco. Prima di arrivare al soggetto devo dire però una cosina, che è quella che Daniele ci tiene, giustamente, a sottolineare che essere sintomi non è una cosa, è una cosa positiva. Perché alla fine interpretare la letteratura come sintomo, beh, insomma, bisogna dire che, no, Daniele, adesso possiamo dircelo, che abbiamo dato tante definizioni della letteratura, forma di conoscenza del mondo, forma di cambiamento del mondo, possibilità di disegnare un'utopia. Insomma, abbiamo dato definizioni anche un po' più nobili della letteratura. Rispetto a questi testi sembra che queste definizioni non funzionino più. Questo è il giudizio, diciamo, duro, anche se, adesso poi lo argomenterà lui, però è un giudizio che comunque, no, anche se tu, giustamente, dici è un sintomo, non è un feticcio. E questo è molto positivo, perché il sintomo, comunque, il sintomo, essere sintomo per la letteratura significa essere un'istanza di emersione di verità, essere comunque luogo in cui ritorna un rimosso, essere qualcosa che turba le false apparenze, essere dunque istanza vitale richiesta di una vita diversa, che non è poco. Ecco, quindi non è che alla letteratura si attribuisca una funzione poi così marginale. Però certo, rispetto ad altre definizioni, è diversa, diciamo. Quindi essere sintomi, diciamo che, mi verrebbe da dire, non so se dico bene, è già molto, ma non basta. Non basta perché? Perché ciò di cui la letteratura dell'estremo è sintomo va combattuto sul piano della prassi politica. Questo mi pare che si venga a dire in questo libro. cioè la letteratura può fare la sua parte ma qui dobbiamo spostarci su un altro piano. Che cosa occorre perché questo accade e torniamo al soggetto? Che cosa occorre perché si dia una nuova forma di prassi politica, una riappropriazione della prassi politica da parte del soggetto? Dicevamo che il primo problema è appunto il soggetto. Non l'io che elabora le proprie finzioni difensive, non l'ess lusso diciamo lusso primario alla deriva in qualche modo ma il soggetto. Quel soggetto messo in crisi da anni di teoria e di prassi. Tralascio la teoria che mi interessa qui meno e mi interessa di più la prassi. Per il soggetto è difficile collocarsi nella possibilità di un agente responsabile. Non rinchiuso sto citando nella mera dimensione del sé. È il declino dell'uomo pubblico. È la fuoriuscita della dimensione politica dalle nostre possibilità. Questo è il problema. Discutere e deliberare in comune sul giusto e sull'ingiusto questo fa il soggetto non l'io che costruisce legittimamente le proprie barriere difensive attraverso l'immaginario. chiudo citazione di nuovo io abnorme e che chiaramente sta ad autofinzione e complotto universale che sta a genere come abbiamo visto io abnorme e complotto universale sono il parto gemellare di un difetto di politica che non sarà l'invenzione di qualche nuova forma artistica a sanare. Ora torniamo a che cosa è la letteratura per chiudere allora per concludere forse possiamo attribuire qualcosa di più alla letteratura possiamo essere un pochino più generosi forse c'è qualche scrittore che in questo momento sta cercando di creare delle collettività forse forse non lo so te lo domando secondo me sì però naturalmente ne discutiamo però quello su cui invece mi piace il libro di Daniele quindi chiudo su questa cosa qui allora per concludere dove sta in questo discorso la pretesa della letteratura di costruire una forma di intervento sulla realtà ora questa cosa qua c'è nella letteratura e gli scrittori dicono di volerlo fare e qualcuno probabilmente ci prova e ci riesce però non è così facile non è così facile come sembra dove sta nel discorso di Daniele e mi piace che non ci stia troppo anche se un po' ci dovrebbe stare dove sta l'enfasi degli scrittori sulla forza della parola tutto il discorso che abbiamo sentito fare molto in questi ultimi anni la riconquista la presa della parola la capacità della parola di avere una presa sulla realtà dopo gli anni del postmodernismo euforico dell'ironia a tutti i costi eccetera eccetera ora noi di nuovo diventiamo soggetti tutto questo nel libro di Daniele non sta è una convinzione illusoria allora quella di questi scrittori e non sappiamo neanche quanto tanto quanto Pia possa essere questa illusione non lo so Saviano Saviano Domingo io penso a questi due però potremmo pensare anche a qualcun altro lo stesso Scurati forse anche qualche volta Scarpa può essere anche lo stesso City in qualche altro momento non lo so adesso di questo magari per cui la riappropriazione di uno spazio non marginale per la letteratura è impensabile impossibile perché adesso qui parliamo di letteratura però io sono molto d'accordo con la tua poi alla fine sana sano richiamo al fatto che non dobbiamo aspettarci dalla letteratura una funzione salvifica che non ha mai svolto nella sua vita dobbiamo forse cercarla altrove la via di una però loro ci provano questa definizione di letteratura non si addice a un sintomo pretenderebbe di essere qualcosa di più vero è e chiudo davvero con questo che molta della critica che ha sostenuto questa scrittura non so quanto abbia reso adesso penso alla Carla Benedetti con Saviano quanto abbia reso un buon servizio a questi scrittori però in questo magari appunto entriamo su un cote più letterario a me adesso piaceva partire dalla tesi di fondo cioè la soggettività la prassi politica cosa facciamo non sono io che pongo questioni così pesanti come si regoliamo mi assicurisce la signora ma non 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 sapete che di solito le presentazioni dei libri ti chiedono ma chi ti piace quanto c'è di autobiografico c'è molto di autobiografico in questo libro questo è proprio giusto dicevamo ieri parlando ah no allora niente non c'è di autobiografico allora cominciamo dall'invecchiamento che era l'unica cosa che avevo pensato di dire io davvero spero che questo libro sia un breve addio non un lungo addio temo che non sarà così così breve a quello che è stato un decennio un quindicennio che io io ho vissuto piuttosto male ho vissuto piuttosto male da un punto di vista non personale ma per quanto attiene appunto alla mia costituzione di animale politico non è stato almeno per le persone della mia generazione qui c'è un elemento di generazione io penso che può vedere le cose molto diverse che adesso ha 22 23 24 anni una cosa che mi aspetto che qualcuno mi chieda ma i traumi forse non ce li hai avuti tu non ce li hai avuti la tua generazione una generazione non garantiti adesso ha uno scenario di tutt'altro ma immagino che insomma questa cosa verrà fuori senza altro ma non so se ti va a dire molte volte e poi anche su questo magari si può dunque partiamo dall'inizio se riesco è vero è un libro che mette al centro questo problema della realtà ma non nel senso del dibattito sul realismo che a me in questo frangente non interessa è vero che in Italia negli ultimi anni e se si toglie il libro di Federico Bertoni che però non era un libro immediatamente di chirica meditante ma di teoria eccetera non ha avuto grandi picchi devo anche dire che a me il problema della accuratezza della rappresentazione della letteratura che dice non mi interessa più molto io quando parlo di realtà intendo qualcosa con cui ci si fa qualcos'altro in realtà per me c'era una battuta molto bella di Roland Barthes che diceva la realtà è operabile o non è operabile è un luogo dove si può operare è un luogo dove non si può operare se voi ci pensate quello che di cui almeno fino alla mia generazione non so la vostra noi ci siamo sentiti deprivare non era la conoscenza non è che non sappiamo le cose non è che succedono delle cose per questo io trovo a volte disturbante fastidioso è vero la maggior parte di questa letteratura che ho preso in esame non mi piace non l'amo io trovo molto disturbante questa enfasi sul complotto sul retroscena sull'idea che tutti ti mentono tutto quello che sai è falso tutto quello che ti hanno insegnato a scuola è falso e io adesso grazie alla potenza della fiction ti racconterò esattamente cosa stanno le cose eccetera eccetera non c'è bisogno di questo la conosciamo abbastanza la realtà non sappiamo chi sarà il prossimo governatore della Banca d'Italia ma sappiamo che cosa farà il prossimo governatore della Banca d'Italia sono dettagli questi per i giornali non abbiamo un problema di il romanzo ci aiuti non è sempre stato così il romanzo realista dell'ottocento ha svolto effettivamente per molte persone un'opera anche proprio di vera e propria acculturazione insegnava anche che cosa erano tutta una serie di scenari di questo nuovo mondo che vorticosamente si imponeva che era il mondo industriale borghese noi questo tipo di problema non l'abbiamo più tanto voi ci pensate anche l'impatto di Saviano non può venire dal fatto che ci ha spiegato che c'è la camorra e che la camorra fa un sacco di soldi e che non è soltanto lo sappiamo siamo tutti non è quello il punto il punto è che cosa ci si fa con questa realtà e lì molti di noi io sono uno di quelli si sono rotti i denti si sono rotti i denti perché è molto seccante il fatto che tu qualunque cosa fai non combini niente non la modifichi io non siamo riusciti mai a modificare in alcun modo c'è una battuta che è stata resa celebre da Antonio Scurati che tu hai nominato che è un amico che parlava questa tematica dell'inesperienza dicendo io ho visto i bombardamenti su Baghdad nel 1991 seduto sul mio divano bevendo una birra fresca e questa è diciamo così una sorta di scena primaria di questa condizione di inesperienza le cose accadono ma accadono in un'altra parte io se posso dire ho vissuto qualcosa di peggio l'ho vissuta in strada quei giorni abbiamo fatto due tre mesi di manifestazioni per quella guerra per altre guerre per quella dell'Afghanistan e le guerre ci sono state puntualmente tutte non abbiamo toccato non abbiamo spostato una mattonella il punto mio non era tanto non si sa o accade altrove beh per fortuna i bombardamenti io non è che li auspichi un critico mi ha detto ma qui allora per avere una lettura tua un po' più viace piacerebbe che ci fosse una bella guerra così almeno ti traumi veri non è questo il punto il punto è che tutte le volte che è successo a molti della mia generazione si è cercato di intervenire su questa realtà questa realtà si è mostrata inoperabile profondamente inoperabile per questo dico che una letteratura anche che a me non particolarmente cara gli autori che io amo non sono questi a parte Walter City e qualcun altro mi interessa leggerla come sintomo perché certo la parola sintomo richiama di per sé qualcosa di luttuoso sia sintomo di una malattia ovviamente ti viene fuori uno sfogo ti viene fuori vuol dire che c'è qualcosa altro però nella terminologia della psicanalisi da Freud in poi sintomo è anche appunto l'emersione di qualcosa che tendenzialmente sarebbe stato rimosso e però vuole parlare e non riesce a parlare bene non può parlare direttamente non ha accesso ecco qui tanto il problema non è sapere ma è dire e anche c'è il problema che tu puoi dire tutto quello che vuoi poi con l'avvento dei blog chi è che ha più problema dire una qualsiasi cosa chiunque può dire tutto noi non viviamo più assolutamente in un'economia di rarefazione della parola tale per cui c'è la censura c'è la polizia o diciamo così sei confinato alla marginalità no tendenzialmente si può parlare guardate che è anche molto facile scrivere un romanzo adesso è anche molto facile pubblicare un romanzo oddio quest'ultimo anno visti i fatturati editoriali potrebbe essere un pochino meno facile però se volete una previsione secondo me finiranno i compensi miliardari ma non sarà difficile non è difficile prendere la parola è difficile farci qualche cosa con questa con questa parola la questione del trauma che cosa mi è sembrato mi è sembrato che questo è un fatto questo non credo che sia un'idea mia è un'idea che io ho ritrovato anche in altri che nel momento in cui io molti tutti gli stessi scrittori si sono sentiti in una condizione di impotenza ma non cognitiva pratica politica hanno pensato che quantomeno la condizione di traumatizzato la condizione di vittima la condizione di chi allora effettivamente è emesso in una condizione di impotenza fosse da qualcosa di assolutamente inauspicabile per così dire perversamente perché è una cosa un po' perversa desiderabile visto che non siamo niente almeno come vittime siamo qualcosa c'è qualcosa che spiega questa nostra impotenza non è colpa nostra è uno dei grandi temi che strutturano una delle frasi che voi potreste mettere dietro al 90% della letteratura che non è colpa mia fateci caso lo trovate continuamente non è mica colpa mia l'enunciato tipo di protagonista medio della letteratura italiana contemporanea io non è che sia un granché lo riconosco però gli altri sono molto peggio comunque non è colpa mia io non centro non centro niente sentirsi vittime è irresponsabilizzante nel momento stesso in cui è venuto meno perché è venuto meno un criterio ostensibile visibile discutibile ma che sia possibile mettere lì che discrimina ciò che è bene e ciò che è male ciò che è giusto e ciò che è ingiusto deliberare in comune del giusto e dell'ingiusto la vittima va sul sicuro perché non sbaglia mai la vittima è naturalmente una persona che essendo passiva non ha responsabilità non ha colpe e infatti è una cosa che i sociologi chiamano la concorrenza delle vittime questo fenomeno singolare che io trovo molto sintomatico e molto sinistro che è la concorrenza delle vittime cioè sono persone che fanno a gara a rivendicare per esempio le vittime dei del gruppo etnico o dell'identità di genere non tanto della propria generazione ma di quelle precedenti 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 eccetera se tu vieni da un gruppo discriminato adesso hai una sorta di patente morale una delle cose che mi è capitato di trovare anche questa abbastanza sinistra è che molti sopravvissuti alla Shoah sono stati eletti a maestri di morale quando una persona come Primo Levi tirava calci quando gli chiedevano una morale generale lui diceva io ho soltanto vissuto questa esperienza rifletto rifletto anche su quello che vuole dire diciamo di universale ma non chiedetemi di diventare una sorta di saggio che vi dispensa pillole di come si deve agire di come si deve vivere quindi una cosa che assolutamente sarebbe c'è una cosa che racconta Elie Wiesel che è un altro sopravvissuto Elie Wiesel dopo aver scritto La Notte secondo me francamente è andato fuori di mente ma insomma lui racconta che Albert Camus gli avrebbe detto io la invidio per Auschwitz ora per come la vedo io uno dei due è un bastardo perché o Wiesel mente e mente su una cosa brutta oppure Camus è un bastardo perché come ti permetti di dire a una persona perché lei sì che ha visto le cose come no questa invece è una cosa che è abbastanza ecco quando Giuliana giustamente distingueva traumi collettivi io penso a cose strutturanti in qualche misura un paese una generazione alcune classi sociali eccetera poi è chiaro chi esclude che uscendo di qui mi caschi un vaso di gerani e finisco al traumatologico tutti abbiamo persone che sono morte cioè non è che siamo mortali siamo esseri finiti quindi per carità siamo corpi feribili quindi il trauma è sempre io dico traumi che hanno a che vedere con qualcosa che fa la storia comune a me sembra che molti vanno alla ricerca di traumi immaginali perché c'è un difetto di qualcosa che possiamo dire che ti permette di dire noi io penso a per esempio quanto la seconda guerra mondiale ha avuto influenza sulla mia singola biografia perché mio nonno è morto in guerra nel 42 mio padre ne ha molto risentito e quindi la mia personalità e quella di mio fratello sono tutto sommato piuttosto plasmati da questa cosa e lo sarà stato per molti questa cosa adesso obiettivamente tutta la società invece è strutturata giustamente per fortuna per ridurre le possibilità di subire traumi reali pensate a questa cosa io trovo bellissima l'introduzione della terapia del dolore per i malati terminali che in Italia è stata introdotta con molte resistenze perché ai cattolici non gli va bene devi soffrire eccetera eccetera però tutto quello che noi cerchiamo giustamente di fare è ridurre la sofferenza è ridurre i traumi tutta la protezione del welfare state che è un fenomeno ambiguo che è stata fatta nel novecento era questa idea qui non è che poi ti sbattono fuori e finisci a morire nel freddo quando sei vecchio e non servi più a lavorare adesso chissà se durerà però insomma l'idea era questa qua quindi a me quello che sembra è questo che si ricerca qualcosa di autentico nella passività nella sofferenza nella sofferenza poi immaginaria perché nessuno va a cercarsi effettivamente la sofferenza reale perché si deve dare spiegazione del fatto che tu non hai potenza invece potenza proprio in senso non soltanto di potere ma potenza nel senso di Spinoza la possibilità di modificare la sostanza in cui vivi e finché sei vivo sei uno dei modi collettivi tra l'altro di questa sostanza la letteratura a me sembra che in questi anni la letteratura soprattutto italiana l'Italia è un paese un po' particolare rispetto agli altri che ha subito un grande declino nel cinema pensate cosa è stato il cinema italiano fino agli anni settanta che cosa è adesso io non riesco proprio a capire come il cinema italiano abbia potuto perdere non parlo soltanto dal punto di vista delle forme degli stili ma anche proprio l'apparato industriale produttivo tutto sommato Cinecittà era un luogo dove si faceva un cinema che poi era quindi l'Italia da questo punto di vista è un po' più sfigata non è così dappertutto anche se sintomi di questo genere si potrebbero ritrovare anche in altre letterature secondo me la letteratura che è stata da questo punto di vista sintomatica è quella che porta la traccia di questa impotenza porta la traccia la sua autenticità nel fallimento da un certo punto di vista può darsi che questo sia un punto di vista molto della mia generazione può darsi che questo sia veramente il congedo dal postmoderno perché il postmoderno è stato è stato questo il postmoderno poteva anche avere una versione aggressiva che però da noi non ha preso semplificando molto l'idea che la realtà è rappresentazione va bene allora vediamo chi ce l'ha più lungo allora anche noi facciamo e questo molti hanno detto una contronarrazione una controrappresentazione secondo me è perdente se tu ti disancori da un'idea in qualche modo di realtà che non è completamente afferrata dal discorso questo anche serve l'idea del reale allora vincerà sempre chi ha più mezzi non discuti con i grandi network tu ti fai il tuo blog e loro hanno ti fai il filmino indipendente autoprodotto e loro fanno i blockbuster se è solo così se è solo a chi ha più forza chi ha più voce chi ha più megafoni a disposizione secondo me è perdente però in Italia non è stata giocata neanche questa opzione è stato portato una sorta di lutto per una realtà sparita sparita nel senso di non conoscibile ma non tenete presente che un'altra delle cose che non ho scritto non ci sono tutte queste bibliografie dietro a questo libro ci sono molti pensieri che mi sono masticato in maniera anche un po' amara per tanti anni è che io non credo moltissimo al potere mistificatorio al potere magico ipnotico dell'ideologia io non credo che la gente è così vittima che le cose gli accadono dietro la testa e loro non lo sanno e allora la letteratura dovrebbe squarciare il vero e far vedere che non è proprio così come dicono io questo secondo me non è per niente vero e dico una cosa adesso speriamo di essere alla fine nel periodo Berlusconi secondo me Berlusconi è qualcuno che non ha imbrogliato nessuno Berlusconi ha mantenuto tutte le sue promesse lui aveva promesso di fondare sull'illegalità di non far pagare le tasse di non far pagare gli abusi di non fare di abbattere le garanzie eccetera eccetera di poter assumere il nero di non fare i controlli su tutto quello di vendere le spiagge l'aveva detto l'ha detto a volte anche esplicitamente e lo ha mantenuto e vuole morire così potendo morirà con il condono edilizio se ci la fa è questo io non penso che la gente si è fatta imbrogliare da mai buongiorno non è andata così le persone si mobilitano perché sanno che in quel momento eventualmente quella pensano che sia l'unica strada che hanno questo si quindi a me la letteratura come parola più autentica che si insinisce come un cuneo nella menzogna è qualcosa che c'è stato è stata la grande sfida della letteratura in questo possiamo metterla insieme quella realista quella della fine del secolo l'avanguardia il modernismo quella che rompe la crosta delle menzogne io credo che adesso non c'è più può sembrare controintuitivo questa cosa ma io non penso di vivere in mezzo a tutta una marea di celebrati che non sanno quello che fanno io non penso che nessuno abbia mai visto mai preso sul serio forse come si dice le signore in pensione che vedono rete 4 ma io non penso neanche quello secondo me questa funzione di critica dell'ideologia intesa o perché tu potenzi la potenza del linguaggio o perché rompi la rappresentazione secondo me è vecchia non perché non sia mai esistita non credo sia esistita sempre se voi aveste posto la questione in questi termini a Ludovica Riost avrebbe detto scusa di cosa stiamo parlando non capisco quello che dici ha avuto una sua funzione tra fine del settecento e diciamo così mille novecentocinquanta adesso le condizioni sono diverse per cui a me tutto sommato sintomo non mi sembra male nel senso che bisogna anche cercare un voler dire impedito non è necessariamente quella cosa che uno voleva dire io credo anche perché appena cedi a un dire questo effettivamente è un problema di tutte queste forme che molto spesso sono un po' corrive soprattutto la letteratura di genere è abbastanza corriva soddisfa l'appetito di fiction l'appetito di sapertori avvincenti eccetera che è una cosa che abbiamo peraltro anche se mi chiedo se uno che adesso ha 15 anni poi ha più voglia di leggere queste cose non si trova meglio con delle playstation raffinatissime che gli fanno delle cose io questo non lo so ma ho qualche dubbio che duri ancora molto questo tipo di narrativa che adesso è mainstream uno dei limiti è che appena dici una cosa questa cosa diventa appena la dici con questo questo valore smascherativo questa cosa diventa diventa digerita diventa pensate alla parabola di Saviano la parabola di Saviano è triste da un certo punto di vista perché probabilmente nessuno di noi avrebbe resistito al peso schiantante di un'industria culturale di questo genere che ti prende ti cosa a quel momento sei il loro autore di punta e Zio Mauro ti chiama tutti i giorni per commentare su Repubblica poi fai la trasmissione eccetera non è più adesso poi non so cosa farà in futuro uno scrittore sta dall'altra parte del video Saviano io ricordo perfettamente che venne fuori la notizia nel 2006 delle minacce dei clan venne fuori la copertina di sette con lui in camicia rossa come un garibaldino sulla copertina e l'intervista fatta da quel figuro che è Antonio Dorrico io dissi Saviano è morto è come se fosse morto è passato dall'altra parte quindi da questo punto di vista restare sintomi restare un po' restare un po' schisci diciamo riconoscersi un po' sfigati perché questa sono i prodigi di madama dialettica sapere che sei un po' sfigato non vantarsi che l'essere sfigato ti giustifica dai tuoi fallimenti questo sì ecco non so come io ho cercato di avere uno sguardo strabico su questa letteratura non mi piace dire una delle cose che forse qualcuno di voi l'hanno letto questo libro era l'insistenza sul romanzo storico che molti di questi scrittori hanno nel romanzo storico in genere si rilegge la storia almeno questi lo fanno con i paradigmi i concetti di oggi e sono in genere le storie che finiscono malissimo e spiegano il nostro presente cioè siccome i nostri antenati hanno fatto cilecca ci hanno lasciato una situazione disastrosa e allora noi a questo punto non ci possiamo niente c'è qualcosa di un po' risarcitorio per esempio ecco allora secondo me senza condiscendere troppo al fatto che sentirsi vittime sentirsi oggetti continui di traumi ti giustifica ma accettando però la condizione di marginalità io per esempio penso che sia positiva la marginalità della letteratura se succederà quello che credo che sta per succedere che i grandi anticipi dati ad alcuni scrittori italiani sperando che diventino Saviano, Giordano La Parrella eccetera eccetera guardate che non hanno prezzo la Parrella passò da Minimum Fax a Inaudi con un milione di euro non ci rientrano neanche la maggior parte delle volte sono cose che non hanno prezzo perché il mercato è impazzito secondo me se un pochino questa cosa si ridimensiona non è una cosa negativa perché appunto non bisogna né fingere di essere stati Auschwitz né essere una rana che si crede un bue da questo punto di vista per cui io continuo continuo scusami sono affezionato alla cosa sarà che sono pieno di sintomi quindi non ti ho risposto sul soggetto però ho parlato molto ci torniamo dopo se vuoi allora senti ma volevo parto da una cosa minima visto che la butterò un po' sul generazionale non tanto sull'autobiografico però io sono effettivamente d'accordo con Daniele sul fatto che le cose si sanno cioè su questo sono perfettamente d'accordo e lo avverto particolarmente in queste settimane questi giorni visto che abito spero di abitarci ormai non più a lungo ma in una piccola città molto conformista e borghese qui sulla via Emilia 90 km qui cioè Parma non abbiamo cacciato il sindaco il problema è che da anni si sapeva che tutto questo c'era si sapeva naturalmente non nei dettagli di tutte le alchimie con le società partecipate e quant'altro che succedesse tutto questo che ci fosse una combine benefica tra la politica e la classe degli imprenditori si sapeva tutto questo e noi non abbiamo fatto nulla ovviamente se non protestare in modo impotente appunto salvo che poi negli ultimi tempi la cosa il bubone è esploso e l'altro giorno trovandomi con degli amici più o meno a metà io ho 41 anni e ci dicevo ma cacchio che responsabilità che abbiamo noi avere lasciato che gente come Vignali che è il sindaco appunto che si è dimesso che ha qualche anno più di me sia lì sia stato lì e Bernini che ha qualche anno più di me che adesso in carcere a Forli che lucrava faceva la cresta sui pasti dei bambini nelle mense degli asini facciamo questi livelli effettivamente questo è un dato abbastanza ineliminabile volevo fare però anche alcune considerazioni molte cose le avete già dette quindi ovviamente mi risparmio una cosa che vorrei esprimere così in termini in termini molto generali un po' di anche invidia un po' di ammirazione per quello che Daniele ha cercato di fare in questi anni lui è da anni che cerca di incidere quindi mi colpisce un po' ovviamente questo la cosa di cui avete già discusso a proposito del ruolo della letteratura per lui da anni cerca di con appunto un lavoro soprattutto di recensore insomma di critica militante molto legata all'attualità di uscire un pochino da quel circolo asfittico questa è un'ossessione che noi abbiamo da un po' di anni l'idea di uscire soprattutto dal circolo un po' ristretto della critica letteraria che si autoalimenta si autodivora poi sostanzialmente e gli ultimi libri che lui ha fatto questo naturalmente ma anche quello precedente quello sul terrorismo che aveva un taglio abbastanza simile secondo me sia come formato come uso delle fonti come uso appunto di una bibliografia che per lo più è implicita non è sciorinata non è messa in modo terroristico di fronte al lettore ha lavorato in questo senso con effettivamente lo diceva già Giuliana questo connubio che a me sembra molto efficace di da un lato sostenere delle tesi molto forti talvolta ecco su questo potrei eccepire ma è questione di gusto talvolta con un tono apodittico sicuramente molto netto dell'affermazione perentoria quelle che poi fanno più discutere perché appunto di questo libro si è tanto parlato ci sono state molte recensioni dall'altro però c'è sempre caratteristica sua da quando lo conosco la complessità e la raffinatezza dell'argomentazione che appunto tende a cogliere sempre poi gli elementi di rottura le faglie le cose non cercare di incidere su laddove le cose sembrano invece piate senza senza fratture è un libro questo è già emerso forse delle cose che diceva Daniele parlava di amarezza di insomma di essersi scontrato con tante cose è un libro abbastanza cupo sicuramente non so se chi lo ha letto ha avuto questa questa sensazione è un libro che non fa sconti non fa sconti non fa sconti a nessuno non fa sconti forse soprattutto a Daniele stesso perché dalle cose che ha detto mi sembra tutto abbastanza chiaro resta però questa secondo me questa forte come dire componente istanza politica non capisco come qualcuno abbia potuto accusarti di di non esserti confrontato con una dimensione politica del fare letterario questa è una delle recensioni perché il nodo il nodo del testo è Gilda Policato vabbè vabbè no visto che il fondamento si è già capito il fondamento su cui si interroga è strettamente politico mi viene in mente una cosa visto che ho citato il libro precedente sul terrorismo forse questo magari Daniele ci può dire qualcosa questa è cosa di cui avete discusso sul ruolo della letteratura perché poi al centro c'è sempre questo mi chiedo se non sia un po' cambiata la sua prospettiva da quegli anni da quell'epoca perché sostanzialmente l'idea di quel libro almeno per come lo ricordo io era che Daniele convoca in quel libro tutta una serie di strumenti di discorsi che vanno dalla politica all'antropologia alla sociologia e poi però c'è la letteratura ci sono i romanzi in quel caso ovviamente romanzi di varie letterature non solo italiane e però c'è un po' l'idea di fondo che la letteratura cioè ci sono cose che solo la letteratura può dire in qualche modo secondo me è un po' riduttivo dire come hai detto negli ultimi minuti io non credo che la letteratura appunto che le cose ci siano state tenute nascoste come dice De Lillo in un famoso passo di Libra la storia è l'insieme delle cose che non ci hanno raccontato e che quindi la letteratura abbia la missione più o meno salvifica di svelare ciò che è stato nascosto non credo che sia questo il punto cioè che la letteratura comunque non ha non ha mai avuto se non in alcune visioni un po' ingenue il ruolo di svelare una verità letterale cioè l'idea secondo me che tu avevi e ti chiedo se magari c'è ancora è che la letteratura dice le cose dice la verità in un altro modo nelle sue forme specifiche cioè non ci dice cos'è successo realmente non ci dice qualcos'altro ce lo dice nei suoi modi nelle sue forme e quindi appunto la mia sensazione comunque del libro è che non si limita a descrivere o a diagnosticare una situazione perché appunto l'idea del sintomo dà l'idea di una diagnosi così più che altro descrittiva secondo me c'è anche un'idea di c'è una come dire una spinta a cercare una via d'uscita cioè come se non so se quanto implicitamente tu invitassi gli scrittori a cercare una via d'uscita da questo la conclusione per quanto la clausola possa essere stringata e così un po' forse un po' effetto però c'è l'idea di posare il piede su un terreno più solido e comunque di andare avanti che quindi la letteratura possa che non sia chiusa in un vicolo cieco o in un circo più o meno così fino a se stesso e inevitabilmente avvinto dalle dinamiche dalle logiche commerciali questo sì evidentemente c'è non c'è dubbio però mi chiedo se non rimane per tornare al problema della realtà comunque uno spazio di tensione positivo tra le parole e le cose cioè se ammettiamo che una stagione archiviata che forse non era così vero cioè in parte sì ma non era del tutto vero che la realtà coincide con la sua rappresentazione qual è? c'è ancora c'è ancora uno spazio intervento torno un po' sulle stesse cose ma mi sembrano abbastanza centrali ma sì beh intanto una cosa perché ci tengo sull'essere apodittici ci sono molte frasi apodittiche il libro però non è apodittico nel senso che io credo che se andate da Feltrinelli e cercate lo scaffale della critica letteraria ogni giorno lo trovate regredito sotto la copuntura no? cioè non c'è più è un genere che non va non tira e quindi fatalmente molte delle persone che hanno cercato alzano un po' la voce cioè c'è un pochino come dire è abbastanza inevitabile alzare un po' la voce inventarsi delle cose inventarsi anche un po' qualcosa di clownesco in certi casi quello che siccome anche a me non piacciono insieme le cose molto apodittiche quello che il libro cerca di fare è complicare lo schema nel senso che molte cose anche si contraddicono eccetera per quanto riguarda il ruolo della letteratura io nel libro sul nel libro che ho scritto sull'immaginario terroristico avevo parlato però per lo più di un'altra letteratura letteratura che comincia quando nasce il concetto stesso di terrore come categoria politica cioè la rivoluzione francese che poi era la grande letteratura europea dell'ottocento e del novecento e gli esempi che sceglievo per la letteratura nostra contemporanea erano dei grandi era De Lillo era eccetera in qualche misura non sono io a dire che la letteratura dice come stanno le cose sono molti di questi scrittori sono molte delle domande che vengono poste a questi scrittori per esempio Walter City ha avuto più successo con Troppi Paradisi invece che con Scuola di Nudo che secondo me è incomparabilmente più bello perché Walter City che poi è anche un grande saggista un intellettuale molto raffinato ha dedicato molti passi al fenomeno della televisione dentro Troppi Paradisi ed è stato preso come il libro che dice la verità sulla televisione e molto spesso lo scrittore è apparentemente intronato come esperto come di fatto secondo me diminuito di quello che invece il suo specifico la letteratura merita di continuare a resistere se sa fare qualcosa che altrove non si riesce non si riesce a fare molti di questi scrittori un po' ci cascano tendono a dire che sono gli esperti di quindi questa funzione piattamente referenziale letterale adesso io ti spiego esattamente come vanno le cose è stata un po' assunta comprensibilmente ma molta gente quando io ho scritto questo libro sul terrorismo e mi capitava di fare delle presentazioni la maggior parte delle persone mi chiedevano ma come si può sconfiggere il terrorismo internazionale oppure secondo lei chi ha tirato giù le torri ma no io parlo di romanzi è ingenuo tra l'altro in questa richiesta di che cosa ci facciamo con la realtà reale noi dobbiamo sempre io continuo sempre a spezzare un bastoncino di incenso davanti all'altare della dialettica perché c'è qualcosa di ingenuo ma c'è anche qualcosa di prezioso il fatto che la gente dica tu hai voglia di dirgli no ma la letteratura non rappresenta le cose così no 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 il che è anche vero perché effettivamente i grandi romanzi sull'11 settembre sono usciti prima dell'11 settembre ma o secondo i Don De Lillo c'era già dato che qualcuno avrebbe buttato giù le torri le torri gemelle se non ricordo male comunque c'era tutto un passaggio sulle torri eccetera letteratura che si mette a dire dire direttamente come stanno le cose non è mai stata diciamo che ci sia un suo specifico probabilmente sì tende a farti fare un tipo di esperienza tende a farti fare un tipo di esperienza che è secondo me qualunque tipo di letteratura quando funziona che non è tanto io che cosa penserei se fossi là in quella persona ma che cosa si riorganizza di me una volta che mi proietto addosso i suoi predicati c'è una formula molto bella di un critico che oggi nessuno più legge che si chiama Georges Poulet che definisce la lettura e dice diventare il soggetto di predicati che non sono miei dico bene era così come mi riorganizzo io nel momento stesso in cui mi proietto delle cose che sono avvenute a un altro lo dice sì insomma questo è una cosa poi devo dire che molta di questa letteratura che ho analizzato in questo libro non lo permette tanto perché non è bella io non ho messo giudizi di valore provocatoriamente questo libro questo libro esclude esclude per buona parte i giudizi di valore anche perché un'altra delle cose che mi dà il nervoso è che tutti quanti dal critico alla fine dicono vabbè adesso fai sto ragionamento poi alla fine ci dici le pagelle ci è più bravo no eccetera eccetera infatti io mi sono diligentemente spulciato le recensioni effettivamente è la cosa che maggiormente ti viene non dico rimproverata ma richiesta comunque che ritorna quasi ossessivamente questa cosa della valutazione o peggio ancora del canone che è una specie di feticcio questo sì dei tempi dei tempi recenti no volevo dire un'ultima cosa su che forse magari può aprire magari una discussione un po' più allargata no sulla questione generazionale naturalmente l'hai già in parte detto tu io ho la sensazione che questo ci si cioè da lettore tu ce l'hai già in qualche modo detto da d'autore la sensazione da lettore più o meno tuo coetaneo ce l'ho ce l'ho molto insomma sia che il fattore generazionale qui sia molto forte che appunto questo senso di impotenza di inoperabilità della realtà sia anche legato a una particolare stagione vissuta ti potrei chiedere anche in modo un po' parrocatorio mettendo insieme alcune categorie che usi se non ci sia una forma anche di vittimismo generazionale da parte nostra come la mia dell'altro giorno che dicevo che quante colpe abbiamo aver lasciato che i nostri coetanei prendessero in mano la politica al posto nostro e noi non abbiamo fatto nulla questo secondo me c'è molto appunto con questa logica dell'essere nati troppo tardi o troppo presto eravamo bambini alla fine degli anni settanta siamo diventati adulti negli anni ottanta e negli anni ottanta sono stati un decennio chiave non capisco perché gli storici non si interroghino maggiormente di quanto abbiano fatto finora su questo decennio fondamentale per capire quello che è successo che sta succedendo ancora adesso insomma Berlusconi nasce lì fondamentalmente e tante cose nell'involuzione culturale nell'involuzione del sistema capitalistico nascono assolutamente lì a me è capitato anche per altri tutt'altro contesto che poi Daniele in parte conosce di provare a mettere insieme appunto c'è questa idea retrospettiva che sia stata l'epoca del disimpegno degli appi dell'edonismo reganiano e tutte queste cose poi se uno mette insieme le cose che sono successe sono cose enormi successo a parte ovviamente il crollo del muro ma una serie di avvenimenti fondamentali e la domanda che può ricalcare riprendere quello che diceva Scurati della guerra in Iraq dove eravamo noi effettivamente cosa dove eravamo e la sensazione che tutto questo sia successo sopra le nostre teste poi certo si poteva andare in piazza senza che questo cambiasse nulla e fondamentalmente questo un senso di impotenza assoluto la domanda che però mi faccio e Daniele forse è inutile forse l'ha già detto ma sarebbe interessante sentire magari anche le vostre opinioni i vostri giudizi se questo sia un problema nostro cioè di noi e degli scrittori che hanno più o meno la nostra età perché insomma sostanzialmente la generazione è quella generazionale allora adesso due cose tre forse ma molto rapide la prima la marginalità della letteratura è anche un fatto che sta sotto gli occhi di tutti non sono solo loro che si sentono marginali però per quanto ci sia un'industria culturale che produce anche letteratura è un'industria culturale forte altrove quindi la letteratura è marginale costitutivamente nasce marginale quindi ogni tentativo in realtà di prendere la parola è facile ma poi prendere la parola per parlare a cinque persone quindi comunque poi secondo dato la rimediazione la rimediazione è una cosa che dovremmo cominciare sulla quale la critica letteraria che si occupa di testi contemporanei deve cominciare a ragionare cioè qui siamo di fronte a una letteratura che si muove tra più media dobbiamo anche uscire dal testo stampato come unica forma no? e cominciare ad analizzare insomma tutta un'altra galassia poi la scrittura della storia io su questa cosa qui ragiono da tanto tempo adesso forse prima o poi riuscivo anche a scrivere qualcosa con Daniele ne abbiamo ragionato e non sono d'accordo no nel senso che c'è un sacco di letteratura complottistico misteri misteri insomma quella roba lì che anche a me urta e da un po' l'orticaria e perché appunto è una forma consolatoria cioè comunque c'è il grande vecchio da qualche parte comunque tutto ha un senso comunque ora io ti spiego cosa davvero è successo dove la complessità di un reale che nell'età globale è davvero invece molto più difficile da spiegare con facce di teoria del complotto ti sfugge completamente perché dal punto di vista tu esci consolato dal fatto che comunque esiste un senso tutto quello che ci accade da qualche altra parte è stato quindi siamo sfigati ma c'è un motivo per cui lo siamo almeno possiamo dirci questo allora molto semplificando io credo che avrò ci siano dei tentativi di scrittura della storia adesso qui siamo a Bologna abbiamo il collettivo Luther Blissett poi Gomingue loro fanno un po' un'altra cosa cioè io la tua lettura la lettura anche che hai dato di loro dentro questo paradigma secondo me funziona fino a un certo punto nel senso che lì c'è un intento performativo fortissimo cioè quella è letteratura come performance adesso questa cosa prima o poi se riesco a scriverla la metto anche un po' più in ordine di come la sto dicendo qui che è un po' incosinata cioè quella non è neanche più tanto letteratura è un tentativo della parola di tradursi in atto performativo cioè questi tentano tentano ci riescono non ci riescono non è facile però quello che tentano di fare è investire il lettore e costringerlo a entrare in una comunità cioè lo interpellano adesso citiamo Althusser così la facciamo più complessa il discorso cioè c'è un tentativo funziona in alcuni casi ha anche funzionato con esiti magari non sempre felici però ha funzionato poi l'ultima cosa la generazione allora siamo anch'io sono parte di questa generazione posso dire che non sono così disillusa disincantata forse per questo che mi faccio investire da queste allocuzioni verso il lettore io ancora un po' quando leggo queste cose dico ma però cose si può ancora fare no così proviamo su non è che siamo sarò un eterno adolescente è possibile quindi qui compresso di Peter Pan no adesso ci scherzo sopra però però noi c'eravamo lì negli anni 80 in piazza io e Daniele io di una volta è vero non è servito a niente beh a noi è servito dai a noi e tutti quelli che erano in piazza con noi cioè lì c'era vita poi dopo non so dove sta il reale che non abbiamo cambiato lo so che c'è il reale che non abbiamo cambiato però non torniamo alla teoria del complotto da qualche altra parte stavano decidendo le nostre vite no noi lì vivevamo noi lì creavamo una comunità l'abbiamo creata poi dopo io e te leggevamo Nietzsche e Heidegger eravamo anche visti un po' mali dentro la comunità ma questo no sto scherzando però voglio dire no in realtà facevamo cioè noi nella nostra vita qualcuna cosa lì l'abbiamo comunque sperita ed è stato qualcosa di un po' più autentico di quello no non lo so e quindi comunque valeva la pena forse si può rifare forse noi non lo possiamo più fare non lo so generazionalmente forse adesso lo fa qualcun altro però quando questo qualcun altro lo fa io non dico no non fa cioè non è che possiamo fare disincantati noi l'abbiamo fatto non è servito a niente no noi l'abbiamo fatto ed è stato bello se proviamo a rifarlo anche a noi insieme a degli altri forse funziona anche di più invece di dire noi siamo dall'altra parte ecco io questa cosa qui volevo dirla non è il campeggio estivo cioè io l'ho fatto anche l'anno scorso contro la la legge Gelmini è stato molto bello effettivamente poi è finita come è finita cioè la legge è un approvato io vorrei che una legge una volta non venisse approvata perché io mi sono fatto un culo così e però non la approvano cioè dovrà succedere una volta nella vita perché se no questa idea che il il movimento è tutto il fine è niente no perché invece è stata un'altra la deriva più interessante più combattiva del postmoderno è stata quella dell'Eziana o in Italia Toni Negri eccetera eccetera per cui come dire il soggetto emerge fiammeggia e è imperituro finché è e quando si spegne pazienza poi Toni va da un'altra parte e lo fa di nuovo o no e noi lo possiamo rifare in piccolo eccetera io non sono d'accordo io su questo non sono d'accordo a me piace Zizek perché dice vuoi la rivoluzione e il giorno dopo organizzi la polizia oppure non la fai oppure ti studi un altro sistema però l'idea è che hai fatto la rivolta che si è ecco perché questo è un pochino no però invece è vero ci siamo stati è stato bello io sono molto contento di aver fatto quelle cose infatti non è l'impotenza era perché punto uno perché se no si rientra sempre nel famoso io ti sei arricchito il tuo io di tutta una serie hai conosciuto persone meravigliose hai fatto sì 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 è stato bello l'anno della Germania io ti ho scritto io l'ho vissuto malissimo quindi invece quella volta lì c'eri molto più tu vai capito io ero lì che dicevo guarda questa volta non combiniamo un cazzo va a finire male la vedo male è inutile che ci illudi eccetera quindi poi i ruoli si invertono a volte un po' d'altro però io volevo dire sì forse avevi più ragione tu di me no alla fine avevo ragione io perché alla fine il volto vero della storia tende a essere quello però ecco al di là di questo per esempio non lo so a me Q era piaciuto tanto quando uscì non perché adesso fosse capito il classico che si staglierà sulle letterature ma non lo so magari sì magari no non era quello però e poi aveva anche una bella amarezza sulla storia che non è che fosse poi tutto così cioè era performativo però alla fine ti faceva anche riflettere sul fatto che va sempre a finire male perché non è che quindi aveva una complessità di sguardo adesso la stiamo dicendo molto rapidamente è un po' così perché l'ora è tarde facciamo parlare chi è più lucido magari allora io ho sentito tantissime cose che mi hanno stimolato mi hanno punzecchiato da tantissime parti quindi faccio fatica a organizzare un discorso sensato quindi faccio così provo a dire due o tre ovvietà e vediamo se ne esce fuori qualcosa due o tre ovvietà nel senso che si sono mescolati diversi piani all'interno della discussione e così ragionando provavo a separarli un attimo per vedere che cosa producono quindi tre diversi focus quello sulla letteratura quello sulla narrazione e quello sul soggetto che è rimasto un po' in ombra è quello che mi interesserebbe cominciare a discutere adesso allora il discorso sulla letteratura perché ho diviso letteratura e narrazione vabbè appunto andiamo per vietà non è chiaramente obbligatorio per la letteratura essere una letteratura di narrazione è chiaro che nella letteratura contemporanea e soprattutto nella letteratura contemporanea in oggetto di questo libro di questo si parla se però ci dobbiamo interrogare su la funzione della letteratura a questa altezza storica o su la forza di presa della letteratura surreale non è la via obbligatoria per la letteratura questa si potrebbe parlare di letteratura in tutti altri termini e però quella della narrazione è secondo me secondo noi un come dire un punto assolutamente urgente e vado al discorso di cui si parlava prima del fatto che le cose si sanno la letteratura non svella noi le cose le sappiamo sì sono sono d'accordo cioè sono d'accordissimo anch'io sul fatto che la letteratura non debba svelare forse non l'ha mai fatto comunque sia non deve farlo oggi le cose le sappiamo e va bene e però la questione è un po' più complessa nel senso che le cose le sappiamo ci sono miliardi di modi di prendere parola a seconda degli utenti che si possono raggiungere è vero il blog non è il mainstream il gioco e la partita vera non è tanto sul numero di utenti ma è sulle narrazioni cioè quel lavoro di egemonia che la letteratura non fa perché è vero la letteratura è probabilmente minoritaria per costituzione però il gioco dell'egemonia si fa sulle narrazioni e il fatto di sapere le cose non vuol dire che a quel punto lì le narrazioni stanno a zero cioè le cose le sappiamo è vero come le sappiamo raccontare la crisi con lo spread tra Bund e Bot è un tipo di narrazione raccontare la crisi facendoci conoscere il pareggio di bilancio che deve essere inserito all'interno delle costituzioni è un tipo di narrazione è un tipo di narrazione che dice chiaramente esiste la crisi non esiste è assolutamente scongiurabile la possibilità di fallimento è una serie di informazioni raccontate in un certo modo che per questa sua narrazione preclude o avrebbe la pretesa di precludere tutta una determinata serie di scelte e di possibilità sul piano delle narrazioni il collettivo Bartleby così come tanta altra gente crede che ci sia una partita da giocare in tutte le cose che fa da quello che è successo stamattina a quello che è successo in Valsusa si sa che cosa è successo in Valsusa si sa da vent'anni è vent'anni che lo sappiamo però e però la narrazione dei fatti di quest'estate è una partita importante la stessa flessibilità su cui la nostra generazione è cresciuta era una narrazione è cambiata la narrazione in questo senso negli ultimi anni ma è anche su questo che si gioca una partita e arriva un po' la questione del soggetto cioè è una possibilità è quella che interessa tanti di noi in questo momento il fatto che la costruzione di un soggetto di un soggetto politico quello si chiama soggetto moltitudine è una cosa che si può riuscire a costruire soprattutto a partire dal terreno delle narrazioni allora la presa della letteratura sul reale non è tanto la presa della letteratura in sé ma è la presa della letteratura sul meccanismo delle narrazioni che e questa è un'ipotesi e di questo si può discutere o meno meccanismo delle narrazioni che invece ha un'incidenza immediata sul reale e quindi anche tutta questa serie di letteratura narrativa si può discutere se faccia un servizio utile urgente da continuare da lasciar perdere all'interno di questa partita sulle narrazioni ed è un'ipotesi e poi mi permetto di non tanto di contestare ma di complicare un po' la premessa da cui è partita un po' tutta la discussione cioè adesso qua parliamo di traumi collettivi e non di tutta un'altra serie di traumi va bene dicevo prima che la flessibilità era una narrazione particolare e collocata precisa storicamente questa narrazione forse adesso ci rendiamo conto che si traduce in precarietà e che è con ogni probabilità un trauma collettivo possiamo dirlo semplificando molto il trauma collettivo di questa generazione molto semplificatore va bene ma avete abbiamo idea di quanto è stato difficile percepire arrivare a percepire e riconoscersi all'interno della precarietà come trauma collettivo cioè avere la forza la costanza di collettivizzare questo tipo di trauma che invece è stato costituzionalmente frammentato all'interno dei singoli individui cioè abbiamo cominciato nel 2008 con tutta una serie di discorsi molto chiari abbiamo continuato a farli durante la crisi forse arriviamo adesso a percepirci come generazione precaria anche a livello mainstream da presa diretta su Rai 3 piuttosto che ma non è una cosa facile cioè non è che esistono in teoria o non è che la collettività o l'individualità del trauma si dà così può esserci una fatica terribile ed è ed è qui che si gioca anche la costruzione del soggetto e quindi nell'agire politico di saper riconoscere ecco adesso qui sembra troppo sfigante sembra che se non ci riconosciamo dentro un trauma che è collettivo non siamo in grado di fare niente non è questo il senso di discorso però per dire non semplifichiamola troppo ecco adesso la smetto perché se no mi perdo una postilla al discorso di Alessio che in realtà ha già detto molto prima di tutto una cosa che mi è venuta molto in mente adesso quando lui lo diceva questo lui l'ha chiamato il trauma della precarietà io non ricordo un libro italiano contemporaneo esemplificativo esemplificativo del trauma della precarietà io ho l'impressione che la narrazione del precario appartenga questa sì alla collettività cioè negli ultimi anni si sono elevate un tot voci da veramente a ogni punto di questo paese probabilmente anche oltre che questa cosa l'hanno raccontata non è un romanzo non è forse una narrazione nei termini canonici ma sicuramente in qualche modo è letteratura forse c'è anche uno scarto da fare in avanti in questo senso la letteratura non possiamo pensarla più imbrigliata nella forma romanzo dico questo anche pensando che una delle grandi narrazioni su quello che si è stato uno dei grandi traumati degli ultimi dieci anni ossia Genova io la ritrovo in alcune cose di Wu Ming non mi riferisco assolutamente a Cudi Luterblis ha scritto precedentemente ma mi riferisco per esempio a un post apparso nel loro blog che rinarrava quelle giornate dieci anni dopo assumendosi assumendosi anche qualche colpa quello per me rimane in qualche modo anzi è letteratura ed è agire politico assolutamente letterario aggiungo che il fatto stesso che qui dentro in questo momento stiamo parlando da un'oretta di politica perché è quello che stiamo facendo a partire dalla letteratura ecco questo piccolo fatto in effetti mi dà molta speranza nel mondo nel mondo letterario vuol dire banalmente che la letteratura serve in questo caso ultima cosa molto breve ho l'impressione che tutto tutto quanto abbiamo detto fino adesso parte da un presupposto che gli autori debbano abbiano il ruolo di svelarci qualcosa primo punto qualcosina non ce l'hanno raccontato cioè i complotti hanno un motivo qualcosina non ce l'hanno raccontato soprattutto in Italia nella storia recente ma l'impressione che ho io è che non è quello il punto cioè non è solo svelare qualcosa che non è stato raccontato ma è combattere delle narrazioni che invece vengono imposte l'ho visto molto bene per esempio sono stato in Spagna ultimamente e lì c'è il combattere delle narrazioni imposte che derivano dalla cultura della transizione ossia dal post franchismo non c'è molto da svelare in questo caso si sa tutto si sa delle torture si sa della repressione ma bisogna combattere una narrazione imposta che altrimenti viene felicemente accettata e allora non la vediamo ecco io molte narrazioni nell'Italia contemporanea vedo una lotta contro questa narrazione imposta secondo punto era molto banalmente questo forse è più soggettivo gli autori italiani contemporanei che a me personalmente piacciono non li ho mai visti come qualcuno da cui aspettare una prassi politica che tra virgolette mi indicasse una via piuttosto che in qualche modo mi illuminasse un'immagine molto buona è quella dei book block cioè io con gli autori ci ho camminato ho protestato con loro anche se non erano fisicamente al mio fianco ma ho fatto attività politica accanto a loro nelle lotte contro la Gelmini nelle lotte dell'anno scorso contro la crisi e probabilmente tuttora questo io lo reputo un valore della letteratura assolutamente alto che però io mi obbligo di essere sullo stesso piano degli autori e delle narrazioni che fanno perché insomma personalmente sento anche questa responsabilità non so se vi siete reso conto di quante volte in questi due interventi è ricorsa la parola narrazione è ricorsa devo dirvelo quasi un po' come un mantra narrazione è un tema caldo importante ovviamente su cui io mi permetto di gettare un po' di sospetto perché non a caso sono 30 anni che non chi si oppone ma chi comanda dice che tutto è narrazione spinge tende a trasformare tutto in narrazione intanto quello che ho notato è che è un termine polisenso nell'uso che ne fate la narrazione di che cosa è successo in Val di Susa è una cosa che la precarietà che prima si chiamava flessibilità quando sembrava una cosa buona detta dai padroni sia una narrazione è un'altra cosa in un caso è dire il vero nell'altro è mentire e cercare di retire la gente a una pratica che poi invece va a suo svantaggio definizione di potere è far fare gli altri qualcosa per te pensando che lo stanno facendo per loro tendenzialmente è molto polisenza tenete conto che ormai in tutte le scienze umane si dice l'identità è una narrazione la nazione è una narrazione i marchi i brand non vengono più pensati come icone ma come storie la storia ovunque lo storytelling è tutto secondo me questo è proprio a livello antropologico stiamo perdendo enormi pezzi delle possibilità della nostra mente non c'è solo la narrazione c'è il calcolo logico c'è il pensiero analogico che non ha a che vedere con la narrazione sotto il campo della poesia ma non c'è solo la poesia c'è tanta analogia anche nel soltanto negli echi negli echi per esempio che io sento di quello che dite eccetera eccetera è molto riduttivo ridurre tutto tenere tutto quanto allo storytelling e viene non a caso viene preso invece perché effettivamente lo storytelling è apparentemente qualcosa di in realtà è molto razionalizzabile quando perché la letteratura la grande letteratura del novecento si è accanita contro la narrazione perché dalla fine dell'ottocento da Conrad a James e poi tutti i grandi dell'avanguardia chi in un modo chi sabotandola dall'interno straniandola per otto volumi come Proust chi invece rifiutandola del tutto perché tutti questi se ne sono presi contro il principio narrativo tentando addirittura di scrivere romanzi che non raccontavano una storia non riuscendoci perché è difficile per quale motivo che cosa c'è di sinistro anche non solo di di vincente ed è siamo sicuri che la cosa da fare è contrapporre una narrazione a una narrazione allora io vi dico che la letteratura che io più amo è che io non riesco a considerare una letteratura che è uno dei tanti stili che si sono avvicendati alla letteratura questa grande letteratura del novecento il novecento è un secolo che io continuo a considerare non superabile non superato per il momento superato per tante cose ma per altri aspetti non è storicisticamente un secolo tra gli altri è una sorta di pienezza dei tempi è scatologica come la vedo io perché il secolo in cui si sono più avvicinate le forbici diciamo tra chi sa e chi non sa tra chi può e chi non può tra gli uomini e le donne tra i ricchi e i poveri l'uscita dal novecento vuol dire che la forbice si riallontana si riapre allora fateci caso il novecento è stato anche il secolo in cui la narrazione è stata contestata se voi prendete un l'equivalente di un precario di adesso guardate come vi interpellano i media che cosa vi chiedono vi chiedono la storia e poi la traducono così Michele 22 anni occhi ma tanta speranza master di qua però tutti uguali ognuno più racconta la propria storia quello che succede sempre nei talk show per esempio uno racconta proprio la propria autenticità e riflessa e si accorge che le storie sono tutte uguali come mai le storie tendono ad essere per esempio tutte uguali quindi non hanno tanto voi prendete l'esempio un operaio di una fabbrica messa in cassa integrazione nel 1978 tutti troppo giovani io qualcosa mi ricordo c'era addirittura una rubrica sindacale il pomeriggio quelli parlavano ma più cose di marchionne parlavano per cifre erano persone che stavano collocati in una condizione subalterna che conoscevano perfettamente il linguaggio quello vero quello effettivo dell'economia non è che dovevano ricorrere seriamente dicendo mi alzo alle 5 e poi così adesso come farò con il latte per il bambino si torna a questa cosa un po' ecco nella narrazione c'è sempre qualcosa di un pochino vittimario anche perché se ci fate caso in letteratura le storie di finzione le storie di vittoria non funzionano tanto in letteratura c'è questa specie di porta un po' sfiga nel senso che raccontare un idilli non è mai riuscito nessuno per esempio raccontare una storia che finisce bene è piuttosto complicato c'è il genere della commedia che non a caso è il più difficile di tutti il più raffinato di tutti schiura una commedia che non faccia ridere che non faccia schifo scusate è piuttosto difficile guardate come si è imputridito il genere cinematografico della commedia italiana che nasce anche come qualcosa comincia con Monicelli e finisce qualche anno dopo con Lina Vermeule e poi adesso è il linguaggio del nostro cinema se siamo proprio sicuri che bisogna contrapporre necessariamente o non bisogna invece a fatti contrapporre fatti alla riduzione a un'unica stringa che poi è sempre quella che poi è sempre quella che è lo scheletro della narrazione che è l'endoscheletro della narrazione provare a proporre altre non so come dire perché finisco finisco proprio finisco la crisi del novecento è stata il ritorno alla narrazione gli anni ottanta di cui parla Federico sono dai franchi narratori che cominciano a scrivere cose o le lettere alla lotta continua in cui la gente scrive il privato poi arrivano Tondelli e poi tutti gli altri poi ognuno che racconta i fatti suoi è stato un ritorno in grande stile della narrazione della possibilità di narrare che bello narrare Wim Wenders è stato per la nostra generazione per esempio un regista cardine perché uno che è partito da un interdetto da un'impossibilità ha detto no ma si può benissimo basta ricominciare tutto da capo so se qualcuno di voi ha visto un film che si chiama Lisbon Story che è una sorta anche di documentario commissionato dalla municipalità di Lisbona in cui non possono fare un film perché il regista è sparito non si trova non si trova il film è la storia della ricerca a un certo punto lo trova e questo qui in un grande magazzino ha coperto con dei grandi pacchi un po' come Cristo tutta una serie dell'artista dico non il figlio di Dio come tutta una serie di teleschermi di cose non si può più dire niente perché le immagini mentono e l'altro gli dice ma no basta ricominciare tutto da capo e la scena dopo si vedono le due con la camera in spalla che firmano Felici Lisbona io sono un po' sempre un pochino sul chi vive quando sento questa insistenza sulla narrazione e l'ultimissima cosa che fatica che ci è voluto a prendere atto che però secondo me non è necessario ricorrere al linguaggio del trauma non è che ognuno ci deve eh no questo è importante perché il trauma ha degli elementi come dire sintomatici e quindi rivelativi ma c'ha anche gli elementi che ti azzoppano eh non è un trauma è un nemico la precarietà è un nemico non è un trauma è un nemico Hitler non era un trauma era un nemico io la vedo così una cosa veramente rapidissima visto che tra l'altro una delle cose che mi aveva mi ero annotato leggendo il libro visto che Daniele parla del punto del ruolo del plot di un certo tipo di trama che forse rientra poi anche in logiche editoriali dice a un certo punto c'è molto 800 in giro con una formula un po' sbrigativa ma per dire che a livello di temi trame psicologiche dei personaggi c'è molto l'idea di un punto di una trama in cui tutto torna ecco a questo proposito Cesarani che non è qui con noi ma dovrebbe esserci ha pubblicato adesso ci penserà intensamente ha pubblicato pochi mesi fa questo libro interessante insomma quantomeno come mappatura del campo sull'uso diciamo sulla migrazione sullo sparpagliamento che la letteratura diciamo gli strumenti letterari hanno all'interno di altre discipline e altri campi del sapere molto interessante perché questo va a indagare non solo gli ambiti più tradizionalmente legati quelli delle scienze umane diciamo l'antropologia la storia la psicologia ma anche quelli delle scienze cosiddette dure la fisica la matematica e lui mostra dati alla mano tanti documenti e testimonianze quanto lui dice appunto la letteratura in realtà è soprattutto la narrazione cioè la modalità narrativa questo ci dice noi siamo qui spesso con varie forme di vittimismo talvolta a interrogarci sul ruolo della letteratura sulla marginalità della letteratura c'è questo dato abbastanza sorprendente da un po' di anni a questa parte che in realtà la letteratura da certi punti di vista gode di una salute ottima basta guardare i festival letterari basta vedere tanti fenomeni a livello sociologico e anche questo dato abbastanza interessato io sono d'accordo sul fatto diciamo non la giudico una cosa di per sé negativa sono d'accordo sul fatto che sia un'arma doppio taglio nel senso che da un lato forse bisognerebbe interrogarsi se questo non denuncia o non è sintomo di una crisi epistemologica nel pensiero nelle altre scienze perché in qualche modo c'è anche questo secondo me da valutare e d'altra parte bisogna appunto stare attenti al potere di semplificazione che ha la narrazione i grandi modernisti i grandi scrittori del novecento in buona parte perché hanno combattuto la narrazione la storia per il fatto che la realtà è più complessa di quanto possa essere ricondotta una trama tradizionale naturalmente loro poi come sempre in letteratura si lavora in mezzo a convenzioni in mezzo a modelli che vengono o seguiti o decostruiti o contestati c'è una pagina straordinaria secondo me ancora validissima dell'uomo senza qualità di musica è uno dei grandi monumenti incompiuti di tutta quella stagione che di rimpiange in modo così un po' ironico ma anche nostalgico i bei tempi in cui si poteva raccontare una storia dall'inizio alla fine con quel filo narrativo che permette di vedere le cose in modo semplice e dare un senso appunto come dicevamo anche prima ricondurre tutto a qualcosa di sensato in realtà lui dice in quella stagione in quel momento particolare che poi è successivo alla distruzione di un mondo cioè dell'impero austro-ungarico e di tanti sconvolgimenti che hanno segnato quegli anni la realtà è troppo complessa per essere ridotta così e tant'è che il tentativo poi ha innervato ha alimentato tante sperimentazioni di quei decenni era proprio di distruggere la macchina della narrazione e poi appunto è successo c'è stata poi la stagione delle post-avanguardie evidentemente anni dopo e poi è successo che tra la fine degli anni settanta e gli anni ottanta è cambiato decisamente qualcosa se voi mettete in fila se una notte di vero in viaggiatori di Calvino che è del 79 e altri libertini di Tondelli che è dell'ottanta vedete questo il nome rosa cioè questo scarto che è nettissimo sì no io devo dire che su queste cose che stanno dicendo adesso loro sono molto d'accordo cioè la questione della narrazione è una questione un pochino complicata anche io sarei per essere un po' diffidente rispetto alla pervasività della narrazione come arma come strumento di di contro come contro narrazione eccetera cioè nel senso che insomma uno che voleva fare il pelo alla storia come Benjamin però era uno che amava molto la discontinuità non la continuità della trama narrativa di un racconto che voglio dire esistono davvero altre forme di pensiero che forse potrebbero spalancare qualcosa di diverso è il mito è il mito infatti no ma io adesso lì appunto ripeto questa cosa qui adesso poi alla fine la scriverò così almeno dopo ne dibattiamo in maniera perché ne stiamo parlando da troppo tempo tra di noi rompiamo le balle a tutti con questa cosa qui non facciamolo sì è il mito è il mito perché il mito è tecnicizzato il mito Iesi poi lo ha spiegato il mito è tecnicizzato e il mito genuino è una cosa un po' complicata soprattutto da ricreare di questi comunque lasciando adesso il mio problema è noi eravamo abituati a utilizzare le armi della critica dell'ideologia quello è la nostra casetta di attrezzi che ci hanno spiegato da bambini a noi poi a un certo punto si è capito che non funzionavano più cioè tu demistificavi 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 ma c'era qualcuno che raccontava delle storie che per quanto tu le demistificassi erano più potenti della tua demistificazione allora è come se alcuni scrittori a un certo punto avessero detto beh alcuni scrittori artisti avessero detto bene l'unico modo e lo dicevi tu prima Alessio molto bene questo è stato il passaggio è smettere di fare della critica dell'ideologia e creare delle contronarrazioni più potenti di quelle narrazioni attenzione perché la menzogna sta da una parte come dall'altra ora io lo so che la ricerca della verità è una cosa complessa eccetera però non lo so se eticamente se politicamente dobbiamo davvero dirci perché la macchina mitopoietica è potente ma è mito appunto è mito non è allora lì il mito qui apriremo un discorso un pochino complicato che non possiamo aprire a quest'ora in coda direi ma è questo il discorso cioè quando parliamo di narrazione è poi questo il discorso a cui dobbiamo arrivare tu crei una macchina crei mitologia e la mitologia sai quando la crei ma non sai che strada fa una volta che io adesso però devo dire una cosa a favore assolutamente del modernismo del surrealismo delle avanguardie di questa gente che di narrazione non ne voleva sentir parlare questi spalancavano degli universi di conoscenza che la narrazione fa fatica a spalancare poi è vero che la narrazione ci appartiene da sempre appartiene a tutte le culture non ne possiamo fare a meno quindi il discorso è complesso e infine non mi ricordo più cosa volevo dire ma c'era una cosa che ancora mi sfuggiva su questa cosa del mito mi sono mi sono incartata quindi direi che sul mito questo mito che vedo che viene molto evocato anche dai booming la mitopoiesi ma da sempre insomma dal tempo di Luther Blissett appunto qui è una cosa che voi a Bologna avete immagino l'avrete visti molte volte eccetera spesso citando Benjamin cosa che un po' mi sorprende quel mito lì indipendentemente lasciamo stare sapete dove funziona bene quel tipo di costruzione funziona nei posti dove c'è la guerra nei paesi che fanno la guerra hanno quel tipo di mito hanno quel tipo di lavoro sul mito e anche quel tipo di decostruzione appassionata del mito cioè un fenomeno come la riscrittura della storia della frontiera così come c'è stata nella storiografia americana a partire da un libro del 73 che si chiama La rigenerazione attraverso la violenza perché fino allora nei dipartimenti di American Studies comunque grosso modo la storia americana era raccontata non tutti dicevano il destino manifesto una terra senza popolo per un popolo senza terra siamo arrivati qui non c'era nessuno eccetera eccetera però comunque con varie interpretazioni tendenzialmente si aderiva a una versione libera a una versione invece più conservatore comunque sempre di matrice puritana della colonizzazione in qualche modo destinale di questo continente che poi porta l'America a essere quello che è la prima la prima tutto quello che volete c'è stata anche una controstoria fortissima molto accanita ma resta il fatto che l'America è una nazione che fa continuamente la guerra e ha questo tipo di interpellazioni nella propria pratica politica continua l'altro posto dove funziona è Israele voi non sapete di come si ammazzano gli storici israeliani tra di loro quando ridiscutono per esempio la fondazione dello Stato Israele il racconto delle prime generazioni sioniste che hanno fondato lo Stato di Israele secondo una certa narrazione e adesso ci sono una serie di storici giovani trentenni quarantenni che scoprono agghiacciati che Ben Gurion ha anche raccontato delle bugie che le cose non sono ma questa cosa continua a fare testo perché poi c'è mito e contro mito non c'è solo mito verso scrittica giustamente c'è mito e contro cosa nei posti dove c'è la guerra questa cosa purtroppo funziona guardate invece le unità d'Italia il centocinquantenario dell'unità d'Italia è stata una cosa ci siamo accorti molto meno non dico dei mondiali ma di niente in Italia non è molto importante allora sono demoni da toccare nel momento in cui si va a uno scontro sempre qualcuno fa una narrazione però come dire pensare che la narrazione sia l'arma più forte mi sembra sinistro e comunque si va a evocare dei territori che spesso si rischia un po' di comportarsi come degli apprendisti degli apprendisti stregoni insomma ecco questo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti